Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Il funerale di Luca Giurato, scomparso all'età di 84 anni a causa di un infarto mentre si trovava al mare con la moglie Daniela Vergara, si terrà venerdì 13 settembre nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La cerimonia è prevista per le 14.30 e si prevede la presenza di numerosi fan e personalità del mondo dello spettacolo in lutto per la sua scomparsa. Dopo la notizia della sua morte, volti noti della televisione come Mara Venier e Roberta Capua hanno manifestato il loro dolore per la perdita di questo importante giornalista e personaggio televisivo. Luca Giurato, con la sua voce inconfondibile e il suo stile unico, ha lasciato un segno indelebile nel panorama dell'informazione e dell'intrattenimento televisivo. La sua carriera, lunga e ricca di successi, lo ha reso un punto di riferimento per molte generazioni di spettatori, che lo ricorderanno sempre con affetto e stima. La sua scomparsa ha scosso il mondo dello spettacolo e della televisione, lasciando un vuoto difficile da colmare. La sua professionalità, la sua passione per il giornalismo e la sua umanità, hanno fatto di lui un personaggio amato e rispettato da tutti, coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Il funerale di Luca Giurato sarà un momento di commozione e di ricordo per tutti coloro che hanno avuto il piacere di incrociare il suo cammino e di condividere con lui momenti indimenticabili. La sua eredità rimarrà viva nei cuori di chi lo ha ammirato e apprezzato nel corso degli anni e la sua voce continuerà a risuonare nei ricordi.